Salta il banco sulla legge elettorale. Lo strappo si è consumato durante la commissione che doveva approvare le modifiche tecniche al testo prima di inviarlo all'aula nelle sedute programmate tra il 9 e l'11 febbraio. Destra e sinistra però hanno finito per litigare la miccia nei 13 emendamenti fuori programma presentati dalla minoranza che ha invocato il ritorno in commissione e la ripresa dell'esame dal primo articolo. Il centrosinistra per tutta risposta ha abbandonato la seduta. La Puglia rischia così di restare senza regole elettorali a meno di tre mesi dal voto di maggio, il tutto dopo un semestre di riunioni inutili in commissione e la coda delle consultazioni tenute a dicembre tra i partiti. Forza Italia è pronta all'Aventino. È una legge truffa, tuonano gli azzurri, cucita addosso ad Emiliano per spianargli la vittoria e la conquista di una maggioranza bulgara alla regione. Nel mirino il superpremio di maggioranza che, avverte l'opposizione, finirà sotto la tagliola della Corte Costituzionale, finendo per annullare le elezioni. Ma il centrosinistra non vuole saperne. I capigruppo hanno firmato un appello al presidente in trona e gli hanno ribadito che è necessario portare subito il testo in aula, magari tra il 18 e il 20 febbraio. L'ultima parola spetterà all'ufficio di presidenza che lunedì prossimo deciderà il da farsi.